Poi è finita la guerra e dopo la guerra è stata un pochetto dura, c'era la borsa nera, a tutti i modi si cominciava a trovare sia da mangiare sia roba, zucchero, caffè, e tante altre cose che non c'erano prima. E' una cosa che è rimasta, che mi è rimasta ancora. Io non riuscivo da grande, diciamo da sposato, a mangiare la banana. Perché mi sembrava una cosa di lusso e la lasciavo ai miei figli. Non è che non potevo permettermela, anzi era una cosa che mi era rimasta nella coscienza. Inoltre una cosa che mi è rimasta impressa, che tra la gente, diciamo gli inquilini del palazzo, c'era molta più familiarità. Si incontravano, si salutavano, scambiavano due parole. E Pondazzi facevano pure qualche partita all'osteria sotto al portone, a Carte. Ma t'amore amici, a differenza di adesso, mi sembra che c'è una certa freddezza. Ti incontri con qualcuno, quasi te scorcia che mi sembra che c'è una certa freddezza. E' un momento particolarmente difficile. Mi morì pure mamma. E io sono andato, papà, e sento rimasto senza voi. I due maschi più grandi, a me e mio fratello, ci mise in collegio. Ma collegio all'epoca non gratuito, ma piuttosto dove ci pagava tanto. Esattamente collegio San Giuseppe, piazza di Spagna, dove ringraziamo a Dio. Hanno aumentato la mia, diciamo come se vuol dire, la mia conoscenza cattolica che già me l'ha inculcato, mia madre.